Noi abbiamo detto in più occasioni che è necessario che gli uomini si impegnino anche a fianco delle donne in questo lavoro, perché è diventato un lavoro per tutte. Io dal 91 sono impegnata con la Casa di Accoglienza delle Donne Maltrattate e ne ho viste veramente tante, di donne maltrattate, ma anche di condizioni non propriamente favorevoli al nostro lavoro. E allora io penso che questi percorsi di fuoriuscita dalla violenza siano veramente impegnativi per le donne che devono uscire dalla violenza, per noi tutti e tutte soprattutto, che siamo così impegnate ad affiancare queste donne. Penso che noi si sia messo il dito nella piaga, una piaga che abbiamo visto parecchio purulenta, perché negli anni 90, quando io dicevo vado alla Casa di Accoglienza delle Donne Maltrattate, ricevevo sempre sorrisetti, un po' di degnazione. Le donne maltrattate ci sono anche gli uomini, figuriamoci, no? Certo, ma qui noi abbiamo scoperchiato un vaso enorme e tutto il Me Too ce lo dice. Qualcuno sta anche dicendo che il Me Too è arrivato grazie al fatto che c'è stato un lavoro enorme dei centri antiviolenza. Lavoro che è cominciato in America. Noi abbiamo cominciato a guardare all'America, poi al Nord Europa, mi ricordo incontri con le donne inglesi che cominciavano anche loro a fare un'attività molto importante. E devo dire che il richiamo del professore a livello internazionale è veramente molto importante e puntuale, perché noi abbiamo guardato tutto il mondo. Ricordo ancora con le magistrate nel 1993 che si parlava di ordine di allontanamento e si guardava che cosa facevano in America per l'ordine di allontanamento. Come poteva essere quel sistema portato dentro a un ordinamento che non aveva invece le caratteristiche del sistema americano. Quindi non poteva arrivare lì il poliziotto, fermare il violento e portarlo davanti al giudice nello stesso momento in cui l'aveva fermato. Noi non avevamo un sistema di questo genere. Le nostre leggi sono andate avanti. Ma perché sono andate avanti? Perché abbiamo dato parola alle donne. Io credo che questo sia stato il passaggio fondamentale del metodo che i centri antiviolenza hanno messo a punto e elaborato qui in Italia. L'abbiamo chiamata metodologia dell'accoglienza. Che è qualcosa di, devo dire, molto speciale. Dopo aver guardato un po' a tutto l'universo mondo abbiamo trovato una nostra modalità di empowerment. Quindi il fatto che noi si ascoltino le donne ci ha consegnato il tema. Perché qualcuno l'ha già detto, non è possibile parlare di violenza senza sapere di che cosa stiamo parlando. Ma soprattutto senza avere avuto quell'input da chi la violenza l'ha subita e come. Da chi riesce a raccontarla. E lo diceva Paola Di Nicola, difficile raccontare la violenza. Nessuno lo vuole fare. Perché è qualcosa che ti paralizza anche mentre la racconti. Ti indigna. Oppure ti fa sentire una sciocca perché ci sei stata dentro fino a quel momento. Ti fa sentire vergogna. Ti fa provare mille sentimenti la violenza. Quante lacrime noi abbiamo visto. Noi abbiamo il nostro salottino, al centro c'è la scatola con i fazzolettini. Perché abbiamo dovuto imparare anche a gestire queste lacrime. Perché ovviamente noi non possiamo metterci a piangere e non lo facciamo. Non ci mettiamo a piangere insieme a queste donne. Facciamo un lavoro di rafforzamento, facciamo un lavoro di empatia che si mette in contatto con queste donne. Allora io qui ho portato due o tre cose sui centri di re. Ho già detto tutto Lella Palladino, quindi non mi dilungo. Ma le domande che si fanno le donne sono un po' queste. Come uscire dalla situazione che sto vivendo? Quando gli dirò che non voglio più continuare quel rapporto, cosa mi succederà? Come reagiranno i nostri figli e come posso proteggerli? In quanto tempo riuscirò a risolvere i miei problemi? Perché questa è la domanda in genere che passano all'avvocata. In seconda battuta, perché noi facciamo un primo colloquio con le consulenti d'accoglienza. Poi in seconda battuta, se ce n'è bisogno, facciamo ulteriori colloqui, anche uno di natura legale. I miei parenti capiranno la mia scelta? C'è tutto il problema del contesto, quel contesto culturale di cui si parlava. Saranno dalla mia parte? Mi daranno un aiuto? Purtroppo spesso vediamo che questo aiuto non arriva. Oppure magari arriva in un primo momento, poi se la donna torna indietro, dicono, no, ma allora tu non capisci proprio niente, non ti si può aiutare. Ti lasciamo perdere. A volte si crea un vuoto pazzesco intorno alle donne. Un vuoto oppure un pieno fatto di giudizi. Quanto mi costerà tutto questo in termini personali ed economici? E non è solo la domanda fatta all'avvocato e alla sua parcella, ma è la domanda di quanto mi costa essere da sola ad affrontare tutto. La violenza economica che ci può essere in un primo momento c'è sicuramente in un secondo momento. Ritorno al DDL Pilon. Abogliamo gli assegni di mantenimento. Già li pagano poco gli assegni di mantenimento. Figuriamoci se li abogliamo, facciamo i capitoli di spesa, non pagherà più niente nessuno. Cioè, quanti di questi racconti noi abbiamo sentito di persone che nonostante tutto dicono mi occuperò sempre dei miei figli come posso, perché da papà separato sono povero, e poi non possono mai. Patrimoni che scompaiono improvvisamente. Gente molto ricca che improvvisamente diventa molto povera. Gente che magari fatturava 100-200 mila euro che improvvisamente ne fattura 10 mila. Quante di queste storie? E quindi le donne lo sanno. Le donne hanno paura. Perché non escono dalla violenza? Innanzitutto per paura, per condizionamenti, per problemi regati ai figli. Ma anche perché dicono come faccio? Ce la farò a fare questo percorso. E allora, nel momento in cui questo passaggio le donne lo fanno, questo è un po' piccolo, mi sa che non riuscite a leggerlo, sì. Nel momento in cui le donne lo fanno questo passaggio, e beh, allora lì vanno accolte con tanta competenza. Con tanta competenza che è fatta di tutto il nostro sapere. Che non è solo quello giuridico per quel che mi riguarda, o quello psicologico per quel che riguarda l'assistente sociale, o la psicologa, o l'educatrice. Tutte donne con delle capacità e una disponibilità enorme, oltre che una preparazione. Quindi generosità da una parte, competenza dall'altra. Il mettersi a confronto con quella donna senza giudizio, che vuol dire, io sono qui, ma lo so cosa tu stai vivendo. Non solo perché l'ho sentito tante volte, ma perché l'ho vissuto anch'io. Non c'è una donna che non abbia vissuto una violenza. Lo diceva prima sempre la giudice, è vero. Che è che non può qui alzare la mano e dire, ho vissuto una violenza. Quante volte? Ma anche andiamo oltre, andiamo al ragazzo, che magari ti piaceva e improvvisamente ti è saltato addosso, e tu non volevi proprio che facesse questa cosa. Ma quante donne hanno vissuto queste storie? Allora, senza andare alle storie di violenza domestica più gravi, che purtroppo anche quelle sono state vissute, anche da figlie prima ancora, o da figli prima ancora che da diretti, diciamo, fruitori della violenza. Ecco, allora, questo passaggio va raccolto con una cautela massima e con una risposta adeguata. Perché se noi non diamo una risposta adeguata, e tutte le tutele giuridiche e sostegni sanitari di cui adesso vengo a parlare velocemente, non sono sufficienti. Non sono mai sufficienti. Non sono mai l'unica risposta che ciascuno può dare. La donna può anche dire io mi allontano dalla violenza, punto. Io scappo. Le donne che scappano con i figli, però, peste le colga. Perché a questo punto c'è una sottrazione di minori. E le donne che scappano per sottrarsi dalla violenza, ma per sottrare anche i figli dalla violenza, cosa si ritrovano? Si ritrovano il Tribunale per i minorenni, che mette in moto il servizio sociale, e che crea tutta una serie di meccanismi che vanno contro la donna, che vanno a rivittimizzare. Ma non è il problema del servizio sociale. Il problema sta a monte. Di chi comincia tutta questa, diciamo, trafila e non riconosce la violenza. E allora io, che mi sto molto impegnando su questo DDL Pillon, sono andata a ritrovarmi le linee guida del coordinatore genitoriale preparate nel 2015, sempre in America, loro ci avanzano sempre di qualche anno o anche di più, dell'Association of Family and Concealation Courts, hanno fatto delle linee guida del coordinatore genitoriale, perché loro già avevano pensato al coordinatore genitoriale. Però hanno detto, a cosa serve? Intanto serve perché i tribunali non hanno sufficiente tempo da dedicare i casi ad alta conflittualità. E qui abbiamo sempre il problema dell'alta conflittualità. Poi, dice, c'è un effetto negativo sui bambini del conflitto dovuto agli aspetti legati alla cogenitorialità. Quindi questa cogenitorialità che ritorna. E l'invio dei giudici è una necessità di avere prestazioni affidabili da parte di professionisti incaricati. Però cosa hanno detto anche in queste linee guida hanno detto, attenzione, che il coordinatore genitoriale funziona dove non c'è violenza. Come lo dice anche l'articolo 48 della Convenzione di Istanbul. Cioè, non è mediabile il conflitto violento. È violenza e non è mediabile. E infatti dicono anche che può essere inappropriato e potenzialmente abusato da chi si è reso colpevole di comportamenti di violenza e minacce, intimidazione e controlli coercitivi sull'altro genitore. Nei casi di violenza domestica in cui un genitore cerca di ottenere e mantenere il potere di controllo sull'altro genitore il coordinatore genitoriale è tenuto a svolgere una funzione quasi interamente di applicazione delle disposizioni. Dice, tutti devi attenere alle disposizioni ma queste disposizioni ci devono essere e devono essere molto serie. Noi purtroppo oggi vediamo nei tribunali giudici che lasciano completamente i servizi sociali l'affidano i minori. Questa è una posizione su cui si deve tornare indietro. C'è una responsabilità troppo grande lasciata agli assistenti sociali che è giusto quello che si diceva non abbiamo sufficienti risorse giustamente il Presidente richiamava le risorse. Certo, ma neanche le competenze e non è neanche giusto che un assistente sociale divenga genitore di mille bambini improvvisamente. Perché poi il dato è questo noi abbiamo carichi incredibili. Quando il Tribunale di Milano affida i servizi sociali milanesi della città beh, allora quel bambino può aspettare circa un anno prima di vedersi veramente arrivare un assistente sociale. Perché questi sono i tempi milanesi e lo sappiamo tutti. E allora che cosa stiamo dicendo? Di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di questioni molto serie e molto gravi che possono degenerare perché è il momento in cui una sceglie di separarsi è il momento in cui si trova nello stato di maggior pericolo una donna. Quindi molto serie e molto gravi delegate un po' non voglio questo non vuol dire parlare male di assistenti sociali ma un po' alla provvidenza. Cioè il Tribunale mi dice affido i servizi sociali per un anno nessuno si vede nessuno fa niente. E cosa facciamo in questo caso? Allora qui secondo me c'è veramente un'azione da fare collettiva e anche di rete che sia un'azione che rifiuti un incarico che uno non può svolgere correttamente e che chieda un incarico più coerente intanto con quella che è la competenza del servizio sociale perché uno non può diventare veramente genitore e decidere tutto di quel bambino o di quei bambini che gli vengono affidati. Un incarico più coerente e più corretto che uno possa gestire bene e richiamo la violenza nei confronti degli assistenti sociali una cosa che ho fatto spesso anch'io io vedo che gli assistenti sociali sono molto più impauriti da quei padri che hanno più denari hanno una posizione sociale di un certo rilievo e in qualche modo intimoriscono l'azione del servizio e allora questo è gravissimo perché qui di imparzialità proprio non se ne riesce a parlare perché io capisco anche la povera assistente sociale che deve andare presso quella casa in un certo contesto e sentirsi anche se non minacciata comunque in una situazione sicuramente di grave difficoltà e allora che cosa facciamo? Arrivo un po' a quello che abbiamo fatto noi abbiamo studiato molto e da questo studio ne è nata una ricerca importante che abbiamo fatto come coordinamento delle avvocate dei centri antiviolenza allora eravamo un po' meno eravamo una cinquantina all'epoca nel 2008 quando abbiamo poi fondato anche l'associazione nazionale che abbiamo portato alla magistratura rilevando tempi di emissione dei provvedimenti inadeguati non potevamo dire alla magistratura che non ci piaceva nel merito quello che andavano decidendo ma sull'aspetto anche solo organizzativo abbiamo trovato questo paese a macchia di leopardo un paese dove se io presentavo una domanda di ordine di allontanamento a Bologna avevo in 24 48 ore il provvedimento dove se la presentavo a Milano a seconda del giudice che trovavo la potevo avere sempre in due o tre giorni oppure in 45 giorni quindi questo abbiamo rilevato dei tempi che non erano adeguati alla situazione che noi ponevamo sensibilità differenti fra i tribunali e quindi risultati finali differenti in termini di numeri questo ce l'ha detto anche la commissione del senato dell'onorevole Puglisi che purtroppo a distanza di dieci anni perché il primo nostro intervento fu del 2008 a distanza di dieci anni ha rilevato ancora queste difficoltà ma proprio numeriche proprio dei dati numerici molto differenti e oggettivamente non giustificati e non giustificabili la mancanza di specializzazione perché non è sufficiente dire abbiamo la sezione specializzata ma se poi ci metti un magistrato che di sensibilità ne ha pochissima arriva a fare questo lavoro e dice magari vado sui giornali se faccio altre attività se mi occupo di criminalità organizzata se mi occupo di reati finanziari se mi occupo di grandi inchieste che vanno sui giornali ma se mi occupo tutti i giorni di donne maltrattate dov'è che vado e ci sono anche persone che ragionano così dobbiamo tenere conto che ce lo spiega sempre la giudice nella magistratura cioè siamo tutti diciamo dentro la stessa barca e facciamo dei ragionamenti che sono a volte uguali per tutti e quindi se non c'è un magistrato veramente specializzato non si riesce ad andare avanti i pregiudizi gli avvocati hanno i pregiudizi nei confronti e gli avvocati sono molti si sa e alcuni anche giusti qualche volta lo dico da avvocata cercano tutti i modi per accelerare i percorsi giudiziari delle cause di separazione quando noi presentavamo non so se vi è noto l'iter noi negli anni 90 non avevamo una legislazione specifica rispetto alle situazioni di maltrattamento nel 2001 abbiamo avuto la legge mi sembra 4 aprile adesso vado a memoria la 154 che ha che ha approvato l'inserimento sia nel codice civile che nel codice penale di misure cautelari quindi ha previsto misure cautelari specifiche per la violenza in famiglia quindi noi improvvisamente nel 2001 abbiamo potuto avere una norma che chiedevamo da tanto tempo e che ci consentiva e ci consente ancora oggi di chiedere al magistrato civile quindi al giudice civile senza necessità di denuncia un provvedimento di ordine di allontanamento questi provvedimenti sono rara avis cioè sono veramente poco richiesti vado a finire poco richiesti e poco concessi perché è difficile provare il maltrattamento io capisco anche il giudice che dice ma avvocato se tu non mi documenti in maniera diciamo un po' sostanziosa le cose che sono avvenute in famiglia io come faccio a darti il provvedimento e molto spesso però c'è pregiudizio tu me lo stai chiedendo per avvantaggiarti rispetto al fatto di poter stare in quella casa da sola con i tuoi figli rispetto alla separazione che presenterai quindi l'ordine di allontanamento è stato visto in questo modo ma qui dobbiamo capire però come possiamo intervenire cioè come possiamo fare a dire come possiamo fare a dimostrare che in quella famiglia in quel contesto c'è una situazione di violenza guardate che è difficilissimo da far passare passare forse non è il termine giusto ma comunque da far comprendere non solo al magistrato ma anche i consulenti tecnici d'ufficio io vi ho portato qui alcune non posso leggervele però alcune delle relazioni dei consulenti dove scrivono espressamente di fronte ai miei richiami all'articolo 31 della convenzione di Istanbul che dice che per non stabilire i diritti di custodia dei figli occorre tenere conto della violenza esercitati in famiglia mi dicono non sono oggetto di valutazione in un'altra sede di tipo penale noi di questo non ne vogliamo tener conto ebbene allora di che cosa stiamo parlando come facciamo a far emergere questo se neanche vuoi vedere questo che sta avvenendo in ambito penale allora vado velocissima perché mi interessava dirvi che c'è una circolare del CSM del 9 maggio 2018 che diciamo ha un po' rinnovato quella ricerca che avevamo fatto nel 2008 e ha di nuovo chiesto a diverse procure a diversi tribunali circondari quali fossero le situazioni oggi di questi procedimenti e vi invito ad andarla a leggere a chi interessa perché soprattutto ai punti che qui ho indicato vengono richiamati i giudici ad avere buone prassi sull'ascolto della persona offesa sulla valutazione del rischio sui rapporti tra procure ordinari uffici minorili e giudici civili che non si parlano non si intersecano queste comunicazioni e poi con i presidi sanitari e i servizi sociali devo andare velocissima non ve le leggo ma voglio per ultimo dirvi che violenza c'è dopo l'interruzione della convivenza i ricati sono tantissimi sono di ordine psicologico economico ve lo accennato e fisico e minacce in questa circostanza bisogna che la donna sia veramente sostenuta i centri antiviolenza sono al centro di tutto questo percorso che fa la donna perché sono in grado di dare la rete che è necessaria per avere un riferimento mi affido a te tu mi stai dicendo delle cose me le confermi mi stai dando un aiuto allora io mi fido perché fidarsi per la donna è importantissimo ultima cosa pronto soccorso sono state applicate ormai no applicate non lo so ma comunque approvate linee guida per il pronto soccorso che sono dentro alla risoluzione del alla delibera scusate del 31 di gennaio di quest'anno del 2018 e che sono indirizzate si chiama percorso per le donne che subiscono violenza abbiamo eliminato vittime come voleva all'inizio il ministero pensare abbiamo eliminato ogni altra serie di termini che non fossero adeguati al tipo di percorso che abbiamo in testa perché le parole sono importanti come diceva anche Moretti nel film ma le parole sono importanti perché definiscono qualcosa che tu hai in mente di fare se tu parli di vittima parli di tutela noi non vogliamo tutelare queste donne noi le vogliamo affiancare aiutare nel percorso che loro scelgono e la volontà ne parlava prima Lella Palladino allora in questo percorso per le donne che subiscono violenza tutti i pronto soccorso dovrebbero organizzarsi entro la fine di quest'anno è stato dato tempo un anno quindi più o meno entro gennaio 2019 per avere luoghi destinati alle donne che si rivolgono a pronto soccorso per dare dei tempi adeguati a quelle donne 20 minuti di attesa non di più per ogni pronto soccorso per avere operatori o penartici che sono competenti ancora che fanno un certo tipo di valutazione e che soprattutto possano poi all'interno del percorso che la donna fa nel pronto soccorso dare indicazione su come muoversi eventualmente e tenerla anche lì la donna per cui è previsto anche un ricovero per 72 ore tempo necessario perché la donna possa rimettere un attimo in sesto le sue idee capire che cosa vuole fare avere contatto con un centro antiviolenza che le dà delle informazioni adeguate e necessarie e quindi fare delle scelte nell'immediato basta mi fermo perché mi togliono la parola grazie grazie grazie